Bambini, rivoluzionari, non vi siete mai arresi. Dai vostri fasciatoi avete fatto sentire la vostra voce e provato a fuggire verso la libertà. Per voi abbiamo creato una grande novità, Pampers Baby Dry Mutandino. È facile da cambiare anche quando non vi va di stare fermi. E ha tutto l'asciutto di Pampers, adatto già dai sei mesi. Nuovo Pampers Baby Dry Mutandino. Il cambio del pannolino più che un semplice cambio sarà una rivoluzione. Disponibile anche in versione Progressi Mutandino. Grazie.